Elon Musk, nel momento in cui sto registrando questo video, è la persona più ricca del pianeta. E c'è una cosa che ho preso da Elon Musk, lui stesso mi ha insegnato a vendere 3 milioni di euro online. Lascia che mi spieghi. Vedi, ho iniziato a seguire Elon Musk da diverso tempo, ho letto il suo libro qualche anno fa, credo non appena fosse uscito. Da lì ho cominciato a studiarlo, a capire quali fossero i suoi intenti, a capire quali fossero i suoi progetti, a capire cosa fa, come ragiona e come provare anche magari a replicare qualcosa, ok? E se c'è una piccola cosa che ho replicato abbastanza bene, è quella che lui mi ha suggerito indirettamente su un video che ho visto una volta su YouTube dove veniva intervistato. Lui parlava di questi principi base e di questo libro che aveva letto dove questi principi base erano specificati. E io mi sono letto tutto questo libro, subito, non appena l'ho visto l'ho acquistato e l'ho letto e l'ho riletto anche di recente e veramente questa cosa mi ha cambiato la vita. Ti faccio un esempio per farti capire cosa sono questi principi base e come applicarli anche alla tua attività da professionista, imprenditore o quella che vuoi lanciare. Dunque Elon Musk è famoso per Tesla, SpaceX e tanti altri progetti che non si sa come faccia a gestirli tutti contemporaneamente, probabilmente è un marziano visto che lui vuole andare su Marte. Ah però a parte questo quello che è importante sottolineare per esempio su Tesla è che quello che ha detto lui quando tutti credevano che le macchine elettriche non fossero possibili perché i motori elettrici costavano troppo oppure creare macchine elettriche da altre prestazioni non fosse possibile, lui ha detto che era possibile perché ha detto un attimo guardiamo le cose con i principi base. Quali sono e quanto costano i materiali per creare effettivamente, quelli che servono per creare effettivamente una batteria elettrica? 60 dollari, ok? Quindi è impossibile che le batterie elettriche per le macchine costino più di 60 dollari. Ovviamente c'è la manutenzione ma possiamo ottimizzare i processi per renderle molto economiche. Così ha fatto e così ha rivoluzionato e sta rivoluzionando l'industria non solo automobilistica ma adesso anche altre industrie adiacenti. Prendiamo adesso SpaceX, quello che ha detto lui, guarda c'è qualcosa di sbagliato, la corsa allo spazio è stata abbandonata, l'uomo ha rinunciato a esplorare lo spazio per i costi in mani dei lanci, dei razzi nello spazio. Miliardi di euro per lanciare un razzo nello spazio, per questo avevano abbandonato molte nazioni al tempo. E lui ha detto andiamo a vedere quello che costa, ok? Se ottimizziamo i servizi secondo me possiamo fare un lancio anche con 10, 15 o 20 milioni di euro o di dollari massimo. E questo è quello che ha fatto. Ha ottimizzato i lanci, ha messo tutta la produzione internamente per ottimizzare la creazione di un razzo e poi cosa ha fatto? Ha anche creato dei razzi riutilizzabili che riatterrano e possono essere riutilizzati abbattendo i costi così da riaprire la corsa allo spazio. E così oggi tantissime altre persone come lui, Bezos e tanti altri stanno lavorando per portare la razza umana nello spazio. Tutto questo è stato possibile ragionando per principi base. E questo è esattamente quello che io ho fatto quando si tratta di vendere online con il marketing digitale. Questa è stata la mia evoluzione. Passo 1 creavo tonnellate di contenuti, blog, video eccetera come ho raccontato anche in altri video senza uno scopo o un risultato finale. Poi passo 2 mi sono messo a studiare copy, a scrivere lettere chilometriche per giorni e giorni e settimane a creare complicatissimi funnel con tutti questi automatismi e quello che facevo era veramente ottenere qualche risultato ma pochissimi rispetto alla mall di lavoro ed ero sempre lì ad annaspare i blocchi di partenza. Poi passo 3 mi sono messo a vendere a prodotti o servizi a costi più elevati dove io seguivo personalmente il cliente al telefono. Vedevo che le conversioni erano altissime, veramente vendevo tantissimo ma poco perché non era scalabile perché era tutto legato al mio tempo. Poi quando ho sentito Musk ho guardato indietro, ho visto questi tre passi, li ho analizzati e in un attimo mi sono reso conto di una cosa e mi sono posto una domanda e se invece di creare tonnellate di contenuti e creare tutti questi automatismi o parlare al telefono con ogni singolo cliente perdendo tempo con tutti quei prospect non qualificati creassi un video che sostituisse la chiamata al telefono e filtrasse solo i clienti, quelli disposti a pagarmi? Cosa succederebbe? Te lo dico io, è successo perché l'ho provato che questo video attirava la massa senza dover richiedere la mia presenza fisica in quel momento, poteva essere scalato quindi a tantissime persone e poteva filtrare solo le persone interessate. Da lì, credo fosse nel 2016 o giù di lì, la mia azienda ha avuto un'impennata incredibile, ho lanciato altre aziende, ho cominciato a insegnare questo metodo a molti studenti e veramente i risultati sono stati pazzeschi e testati in tantissime nicchie differenti. Il sistema è molto semplice, paghi le pubblicità a pagamento, mandi traffico verso questo video, questo video converte il traffico, ti ripaghi più che abbondantemente avendo anche delle entrate, degli introretti per te e cresci a libera velocità in modo esponenziale. Ora, l'unica cosa è che questo video deve avere certi elementi per funzionare bene, altrimenti non funziona affatto. Vedrai tantissime persone nel mondo del marketing online, business eccetera, coach eccetera, a fare questi video, ma poi non li vedi più perché questi video non funzionano, ok? Quindi, proprio per questo ho creato una nuova masterclass, un nuovo video training completamente gratuito dove ti mostro per filo per segno come funziona questa strategia, quali sono i casi di studio internet a training, chiedi differenti che l'hanno applicato, con quali numeri e con quali successi hanno ottenuto e soprattutto come applicarla per lanciare la tua ottimità o far crescere quella esistente in modo velocissimo nei prossimi 30 giorni o anche meno. Tutto quello che devi fare è cliccare sul link che trovi nella descrizione di questo video e andare subito ad iscriverti perché non lo otterrò online ancora per molto. Quindi, per questo video è tutto, qui è Giacomo Freddi, creatore del software Piramity.io, formatore del marketing programmatico e ci vediamo nel prossimo video.